Buon pomeriggio con l'edizione flash del nostro Tg che apriamo con la cronaca. Concessi i domiciliari al presunto capo della gang giovanile che è accusato di estorsione, rapina e lesioni. Montana è a Cremona, ospite della madre. È durata poco più di una settimana la detenzione nelle patrie galerie del capo della baby gang, protagonista di numerosi atti di violenza nelle ultime due annate. A Derezzo il giovane ventenne Valide Montana, il cognome è uno pseudonimo derivante dalla sua passione per le canzoni treppe messe in video dallo stesso, si trova ai domiciliari nella casa della madre, non a Derezzo ma a Cremona. Lo ha deciso il giudice Giulia Soldini che tra l'altro aveva scritto l'ordinanza cautelare dopo le indagini coordinate dalla squadra mobile a Derezzo. La decisione del giudice non ha trovato il consenso del pubblico ministero Giulia Maggiore che ha dato il parere negativo al provvedimento. Dunque in attesa della definizione della questione Montana ha avuto una pena meno afflittiva. Per il giudice l'allontanamento dello stesso Derezzo può essere la prima base per abbassare la vitalità del gruppo che ha imperversato in queste stagioni soprattutto dalle parti di Piazza Sant'Agostino. Parliamo adesso di viabilità in Alto Tevere e 45 vecchia trebisti Berina, una situazione tragicomica. Così Confindustria Arezzo interviene sulla questione riguardante la viabilità in quella parte della Toscana. Siamo ormai giunti al tragicomico. Con queste parole il responsabile di Arezzo di Confindustria a Toscana Sud, Alessandro Tarquini, commenta la vicenda riguardante la E45 e di riflesso la vecchia Tiberina Trebis a tre anni dalla chiusura del Puleto. Tarquini ripercorre le storie che hanno accompagnato quella chiusura e il riconoscimento strategico riconosciuto dall'allora Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti alla viabilità alternativa. Da qui la necessità di riqualificare l'ex Tiberina Trebis. Ancora oggi la situazione continua a rimanere molto problematica, dice Tarquini. L'ANAS ha fra l'altro recentemente comunicato che i lavori per la messa in sicurezza del viadotto Puleto potrebbero riprendere dopo il 15 aprile tramite una nuova giudicazione dopo la risoluzione del contratto con la prima impresa. Trattandosi di lavori impegnativi, afferma Tarquini, il transito sull'E45 potrebbe essere di nuovo inibito. La sistemazione della vecchia Tiberina Trebis diventa imprescindibile nonostante il Ministero abbia dichiarato l'assenza di presupposti per riconoscerla come viabilità di interesse nazionale. E questo ha dell'incredibile, continua Tarquini. Così come l'è la risposta del sottosegretario alle infrastrutture e cancellieri a un question time dove ha ignorato completamente il ripristino della vecchia strada. Tarquini conclude che i danni prodotti al sistema produttivo e dei trasporti dall'interruzione dell'E45 avvenuta nel 2019 sono stati calcolati in un importo che oscilla tra i 20 e i 27 milioni di euro. Non costerebbe meno, conclude la collettività, sistemare definitivamente l'ex Tiberina Trebis ed evitare così futuri maggiori costi e disagi? La cronaca a quarantenne spacciatori arrestato dalla polizia, l'uomo di origine palestinese è stato fermato e ammanettato nei pressi del parco Pertini. Gli agenti lo hanno individuato mentre transitavano nella zona. Alla vista degli uomini in divisa il quarantenne si è dato alla fuga ma è stato poi bloccato non senza difficoltà. La perquisizione personale ha permesso di scoprire 50 involucri in cellofan contenenti eroina e cocaina per un peso complessivo di circa 18 grammi, oltre a denaro contante in piccolo taglio. L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ultimo appuntamento della stagione teatrale al Signorelli di Cortona. Giuseppe Cederne e Vanessa Gravina, accompagnati da un cast di notevole valore, sono andati in scena con Zio Vania, l'opera di Anton Chekhov, con l'adattamento e la regia di Roberto Valerio. Lo spettacolo è uno dei grandi classici della drammaturgia, una delle opere teatrali più importanti dello scrittore russo. Era in programma nella stagione 2020-21, poi falcidiata dalla pandemia ed è stato recuperato nel programma 2021-22. Nessuno allora avrebbe pensato cosa avrebbe significato oggi. La cultura, afferma l'assessore Francesco Attesti, non ha schieramenti. Certamente pur condannando quello che sta succedendo in Ucraina, un'invasione vera e propria, noi non possiamo assolutamente esimerci dal considerare, soprattutto rappresentare opere così importanti. Stiamo parlando adesso di un grande conoscitore dell'anima umana che è Anton Chekhov e una delle reazioni unanime è che avete adattato, attualizzato il testo di Chekhov. Abbiamo un testo che parla di cose, è stato scritto 120 e rotti anni fa e è un testo che parla di crisi, di dolori, di gioie, di illusioni e di fallimenti umani che ancora adesso anche i ragazzi giovani sentono molto attuali. La modernità di questo disagio da portare in scena ogni volta è come un po' doversi fotografare l'anima e buttarla nelle braccia del pubblico, senza maschere, senza timori, senza tabù. È tutto rappresentato nella verità con grande purezza. In questo momento storico, come diceva Giuseppe, tirare fuori questa roba, tirare fuori questa condizione umana, necessaria, primigenia e che racconta poi l'anima russa, politica, fuori da tutto, credo che sia almeno una responsabilità. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e adesso il passo è ufficiale. Il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli, ha chiesto un incontro al Ministro della Cultura per la questione Madonna del Parto. Signor Ministro, pensiamo che sia conoscenza della decisione del Consiglio di Stato sulla definitiva collocazione della Madonna del Parto custodita a Monterchi. L'enorme battage mediatico ha riproposto la questione a livello nazionale. E questa è la sintesi dell'incipit che ha caratterizzato la lettera che il sindaco di Monterchi ha spedito in queste ore al Ministro della Cultura Dario Franceschini. Nei giorni scorsi Romanelli aveva chiesto un aiuto alla politica nelle sue massime espressioni per trovare una soluzione consona alle esigenze di un'opera d'arte che ogni anno è vista da un grosso numero di visitatori che è custodita nel piccolo museo adeguatamente ristrutturato con fondi pubblici nella ex scuola di Via Reglia. A proposito delle caratteristiche complesse della ultradecenale vicissitudine, dice il sindaco, siamo cortesemente a chiedere la possibilità di un incontro al fine di poter riferire importanti e significativi aspetti dell'annosa storia e sottoporre alla sua persona la posizione del Comune di Monterchi. A Monterchi confidano che il Ministro possa prendere in considerazione la cosa visto che parliamo di una delle opere d'arti più importanti del mondo. Ecologia adesso, mille alberi appena piantati tra la zona meridiana e la zona industriale di Quarata. Siamo quindi evidentemente nel Comune di Arezzo. prosegue la campagna di forestazione Mosaico Verde promossa da Estra e Associazione A0CO2. Estra continua ad investire in progetti di sostenibilità ambientale. Qui ci troviamo in uno dei due appezzamenti che ad Arezzo saranno e sono già stati ricoperti di molti alberi. Sì, allora questo progetto che facciamo con Mosaico Verde è iniziato l'anno scorso, continua quest'anno e proseguirà l'anno prossimo per piantare oltre 9.000 alberi nei territori dove Estra è più presente Toscana e Marche. Ad Arezzo il Mosaico Verde è cominciato qui in zona meridiana e poi a Quarata. Quanti alberi avete piantato? Sono circa un migliaio, distribuiti circa 300 in quest'area e 700 nell'area di Quarata. La particolarità di questo intervento è che è molto prossimo all'area urbana, al quartiere, quindi avrà finalità sia di assorbimento della CO2 ma anche di riduzione delle cosiddette isole di calore. Quindi un'area che ovviamente dovrà crescere, questo diventerà un bosco nei prossimi anni. Un progetto sostenuto anche da Coingas che ha in mente anche altre iniziative su questo tema. Ma sì, io dico sempre, per me è un onore, ma anche un onore, rappresentare Arezzo all'interno della compagine Estra. Tant'è vero che al di là di questo progetto che già si è concretizzato, stiamo lavorando anche su idee future sulle energie rinnovabili che dovranno riguardare non solo Arezzo ma tutto il territorio aretino, quindi 27 comuni che oggi partecipano a Coingas. Era molto importante aderire a questo progetto proprio per andare incontro a quelle che sono le politiche rivolte all'ambiente. Come sappiamo stiamo portando avanti i progetti riguardanti la mobilità sostenibile e con questo progetto andremo avanti anche con quello che riguarda appunto le nuove alberature e quindi tutto quello che riguarda appunto l'efficientamento energetico. Bene, andiamo adesso a Monte San Savino. 40 artisti contemporanei che esporranno da sabato prossimo a giugno opere di pittura e scultura. La location sono i due musei di Monte San Savino. Una bella mostra di pittura e scultura al comune di Monte San Savino. Da sabato prossimo fino a giugno, Fabio Migliorati, di cosa si tratta? Beh, in moto andare, si intitola così dall'Arsegno di Montale la mostra, è una riflessione tutta contemporanea sul percorso che ha portato a definire l'estetica della modernità appunto contemporanea. Quindi una logica postmoderna dagli anni 60 in poi che definisce che cos'è immagine contemporanea e cosa non lo è più. Cioè quanto è difficile essere contemporanei oggi in Italia. E lo è, è tanto, proprio perché abbiamo questo sconfinato bagaglio culturale antico e quindi si traduce in maniera contemporanea in modi molto faticosi e contorti. Voi comunque siete riusciti a mettere insieme 40 artisti, non è poco. Qualcosa velocemente di presentazione per invogliare tutti a venire alla vostra mostra sabato? Gli artisti sono i più storicamente significativi dagli anni 60 a oggi, ovviamente tutti italiani perché è un percorso autarchico e si va da Agnetti a Paolini a Ceroli, insomma i nomi più storicamente accettati e denotati del percorso estetico contemporaneo. Scultura, pittura, per lo più pittura, è una mostra che vuole far riflettere, è una mostra che vuole incuriosire e che credo abbia tutto il potenziale per essere qualcosa di particolare in un panorama spesso sordo e cieco. Vediamo un po' quali sono gli appuntamenti di oggi, anzi di stasera, sulla nostra emittente subito dopo il Tg, appuntamento settimanale con diritto di replica, la rubrica di approfondimento giuridico e legale di Teletruria, al termine 9-10 che oggi ripercorre i 30 anni di attività del 118. La serata proseguirà poi con la ventesima puntata di Sportivamente con Andrea Lorentini e Riccardo Buffetti. Bene, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro Tg, grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Grazie a tutti.